Il laser è oggi molto apprezzato in medicina e chirurgia estetica, poiché permette di eseguire diversi interventi in maniera non invasiva e senza anestesia. Quando si parla di laser, si pensa spesso che si tratti di un solo macchinario, in realtà ne esistono molte tipologie che differiscono per lunghezza d'onda e per bersaglio. Per utilizzare efficacemente questa tecnologia è necessario avere diverse apparecchiature costantemente aggiornate. Presso Villa Santa Pollonia è presente uno specifico ambulatorio dedicato ai laser estetici. Grazie per la visione! Grazie per la visione!